L'effetto combinato di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo con aria mite in quota che favorisce la stabilità atmosferica e una saccatura atlantica sulla Spagna che fa fluire correnti sud-occidentali umide sulla nostra regione ha provocato la nuvolosità presente in questi giorni sulla pianura e sulla costa. Questo cielo grigio sarà la caratteristica anche della giornata di sabato. Ci aspettiamo infatti per sabato cielo nuvoloso coperto su pianura e costa dalla costa fino alle prealpi più variabili invece in montagna con tempo migliore in quota. Non è ancora esclusa del tutto la possibilità, seppur con bassissima probabilità, di qualche più vigile sulle zone orientali della nostra regione. Verso sera potrebbero esserci delle foschie o delle nebbie. Domenica al mattino ancora della nuvolosità residua sulla pianura e sulla costa mentre già in montagna sulle Alpi il tempo sarà bello con cielo prevalentemente sereno. Poi durante il giorno le schiarite diventeranno via via più ampie anche sulle altre località della regione. In serata ci aspettiamo cielo quasi ovunque sereno ma con il calo delle temperature anche la probabilità di nebbia di più diffusa sulla pianura e sulla costa. Nebbia che persisterà probabilmente per tutta la notte tra domenica e lunedì e forse anche la mattinata di lunedì. Dall'osservatore metodologico dell'ARPA Livio Stefanotto